...uno, campione del mondo, Curvone. Tutta la fa, tutta la usa. Mamma, mamma. Incredibile immagine. Stacca poco dopo i 200 metri. E come fa l'automoto, Frankie? Buuuh, buuuh, buuuh. Beat your hands up high, beat your hands up high, beat your hands up high, beat your hands up high. Come with me. La scuola italiana si sfiorano. Staccata. Esterno, impossibile passare lì. E Rove Giaus ce la fa. Incredibile. Attacco vincente. Ruota alzata. Acrobazia. Motocrossistica. E Rove Giaus ce la fa. Terza quinta per arrivare in pieno nel curvone. Mette nel mirino. Attenzione, prende la scia a fianca. È uscito fortissimo dal curvone. Calosaki lo voglia assolutamente a difendere. Un titolo. Numero da brivido per Izuzu. Un titolo. 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 Grazie a tutti.